Allora, questo video io non saprò mai se verrà visto dalla famiglia Losi. Non mi interessa perché faccio ugualmente le mie più sentite condoglianze per la scomparsa di Giacomo Losi. Stiamo parlando di una eccellenza, di un calciatore memorabile del panorama giallorosso di Roma, un ex giocatore che ha collezionato 455 presenze con la maglia della Roma, capitano indiscusso e record che è stato superato soltanto da due icone come Daniele De Rossi e Francesco Totti. Ha vinto con la Roma due Coppa Italia e una Coppa delle Fiere, l'unico trofeo della Roma fino alla vittoria della Conference League dell'era Mourinho. Quindi comincio appunto a registrare ringraziando voi dei like, dei commenti, delle iscrizioni al canale, ma soprattutto rivolgendomi alla famiglia di Giacomo Losi. Veniamo al dunque ragazzi, veniamo al succo del discorso. Come diceva il buon Emilio Fede, che figura di merda! Ed è stato così ragazzi, io sono della Roma, tifoso giallorosso dalla nascita e fino a quando vivrò e non mi vergogno a dire, ad affermare che la società della Roma, la dirigenza, i manager hanno veramente avuto una caduta di stile perché al funerale di Giacomo Losi non c'era nessun rappresentante della dirigenza, dei calciatori, l'allenatore, nessuno, nessuno. De Rossi si è scusato pubblicamente e questo gli fa onore, ma la società ragazzi, la presidenza, i manager, che figura hanno fatto? Al funerale erano presenti Luca Zingaretti, Ninetto Davoli, Bruno Giordano, Antonio Tempestilli, Ettore Viola, Sebino Nela, Giancarlo Desisti e Sergio Brio, per le figure eccellenti. Invece per la Roma non c'era nessuno, nessun dirigente, nessun calciatore, è riuscito a presenziare alle esegue dell'ex capitano giallorosso, stiamo parlando di un capitano che fa parte della Hall of Fame, spero di averlo detto bene. Io non ci posso pensare ragazzi, una roba inaudita, qui dice bene la Repubblica, sto leggendo l'articolo del sito web, un'assenza che fa rumore e fa male, per l'importanza nella storia del club, una figura come quella di Core de Roma, veniva soprannominato Core de Roma, una chiesa cremita da centinaia di persone trapparenti, amici e semplici tifosi, nessun rappresentante di alto livello della società, ha ritenuto importante esserci, eppure figure dirigenziali a Trigoria non mancano dal presidente Dan, il vicepresidente Ryan Friedkin, la SEO Lina Sololoku, il Kiev Football Operating, ma come cazzo si chiama, vabbè Maurizio Lombardo, scusate, scusatemi, però si inventano sempre questi nomi, ma parlate come mangiate, direttore sportivo, dirigente Kiev Football Operating Office, mamma mia, pare chissà che stiamo a parlare, tutti assenti, compresi i calciatori, nonostante il giorno di riposo concesso da mister De Rossi, dal club si sono affrettati a spiegare come questo sia un momento di passaggio e intenso lavoro negli uffici di Trigoria e di Viale Tolstoi, tale da non poter presenziare al funerale di un'icona della storia della Roma. Ragazzi, è una vergogna, è una vergogna assoluta, io spero che la società faccia un passo indietro, si metta a colloquio come ha fatto De Rossi, in prima persona a parlare con la famiglia di Lossi e a fare capire per quale motivo un evento così importante come un saluto, un saluto, estremo saluto, parliamo di un'oretta, un'oretta, non c'era un'anima, non c'era nessuno, ma come state? Poi voi siete quelli che fate capire a noi tifosi che la Roma ha una storia, ha un nome da portare, ha un'identità e voi quando un nostro guerriero, calcisticamente parlando, di fama che ha avuto la gloria qui a Roma è un ex abitante, lui è nato a Cremona ma ha voluto rimanere qui a Roma perché era innamorato di questi colori, quindi a maggior ragione stiamo parlando di una persona che l'ha scelto Roma, non c'è nata, ha scelto, è stato adottato e meritava molto più rispetto di quello che avete concesso voi, miei cari direttori sportivi, non c'è più, miei cari manager, miei cari dirigenti perché ce ne sono parecchi che girano nell'orbita della Roma, non ci prendiamo in giro, anche il presidente non può venire Dan, fai venire tuo figlio, per altre questioni è venuto qua tuo figlio Ryan e non rimarco i motivi, non rimarco le situazioni, come ci venite qua a Roma quando vi interessa a voi giustamente, ma non c'era nessun altro che poteva presenziare la Roma, un calciatore, un calciatore, il vice allenatore, ma non lo so, ma qualsiasi, avete mandato i ragazzini dell'allievi, non lo so, dell'Under 16 a rappresentare la Roma, i ragazzini, uno come Giacomo Losi ragazzi, Giacomo Losi che fino a quando non esisteva Totti e De Rossi era l'emblema della Roma, era la rappresentanza del colore giallo-rosso, che figura di merda ve lo ridico un'altra volta, una vergogna assoluta, che poi non può più ritornare indietro, ormai il funerale c'è stato, puoi scusarti solo come ha fatto De Rossi, onore a lui che almeno ha mostrato a tutti il suo imbarazzo perché era molto imbarazzato De Rossi, ma la società? Dicono, eh ma Enrico perché io ho postato il video anche su altri social, no? E li giustificano col fatto che sono americani, sono americani e quindi loro non conoscono la storia di Roma, non conoscono chi sia l'interesse, la personalità, il valore di questo calciatore, di questo ex calciatore, ma chi l'ha dato a bere? A chi l'ha dato a bere? Quando gli interessa come la conoscono la storia della Roma e come? Ciao a tutti ragazzi, scusate per lo sfogo.